Sapevamo che sarebbe stata una partita difficilissima, infatti così è stato. Faccio i miei complimenti a Brunico, ha giocato in un'ottima difesa. Noi siamo una squadra di ragazze molto giovani, sono orgogliosa della mia squadra, della nostra squadra, perché abbiamo dato tutto. Quindi ci siamo giocate, le finali non abbiamo nessun rimpianto per queste finali. Sì, era una partita difficile, durissima, fino alla fine, come si vede dal punteggio. Abbiamo lottato fino alla fine, ce l'abbiamo fatta, siamo primi del nostro girone. Domani giochiamo contro il meteo Corona, la squadra la conosciamo già, e dal nostro girone sarà anche una partita difficilissima e speriamo il meglio.